Presidente, oggi a Pescara, Palazzo di Città, viene presentato questo progetto in collaborazione con il Comune di Pescara. A cosa si tratta? Qual è l'importanza? La valenza? Questo è un progetto nazionale di LegaCop. Partecipiamo anche come LegaCop Abruzzo e ringraziamo il Comune di Pescara per il patrocinio. Il progetto si chiama Coop Startup ed è rivolto a tutti gli imprenditori, particolarmente giovani imprenditori, che abbiano voglia di fare un'esperienza in campo economico, sociale, sotto forma di cooperativa. Nel caso specifico LegaCop poi accompagnerà questo progetto fin dalla fase iniziale, quindi aiutando le società cooperative costituite a redigere un business plan e accompagnando poi il progetto nella fase di realizzazione. Rispetto a questo LegaCop mette a disposizione dei contributi a fondo perduto e poi per i primi due anni accompagnerà anche la cooperativa nascente per tutti gli adempimenti necessari. Più che mai oggi, in un periodo particolare, quello della cooperativa è un modello da imitare? Sono i numeri che dicono questo. In questi ultimi due anni, con tutte le vicissitudini dovute alla pandemia, è indicativo il fatto che il sistema cooperativo è quello che ha resistito meglio alle difficoltà e alle tensioni economiche perché insito in questo sistema ci sono dei meccanismi di solidarietà che nei momenti di difficoltà riescono comunque a mantenere i livelli occupazionali. Quindi a questo punto di vista noi siamo assolutamente convinti che sia un'opportunità per chi voglia intraprendere delle nuove iniziative imprenditoriali. Chiunque abbia un'idea imprenditoriale oggi trova evidenti difficoltà nel mettere la terra perché c'è una difficoltà all'accesso del sistema del credito all'avere la possibilità di partire con dei supporti che siano sostenibili dal punto di vista economico. Quello che vogliamo fare noi è selezionare una serie di idee che secondo noi hanno l'opportunità poi di trovare realizzazione concreta, accompagnarle dando un supporto sia dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista consulenziale per la parte finanziaria, economica e di gestione.